Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non si arrestano le segnalazioni e le richieste d'aiuto da parte di familiari che hanno i loro cari, ospitati nelle residenze assistenziali sanitarie delle Marche. Sono appelli per segnalare i rincari delle rette che stanno mettendo in difficoltà centinaia di famiglie e che sono scattati dopo i numerosi allarmi lanciati dagli antigestori per l'aumento dei costi dovuti al Covid. Da tempo sono stati chiesti alla Regione i ristori necessari a salvaguardare i conti dell'RSA, ma resta una situazione di attesa. C'è una grande differenza tra i proclami e le risorse che devono essere date agli antigestori che sono in grande difficoltà con il Covid, hanno perso ospiti, hanno maggiori costi e i ristori che arrivano dalla Regione sono sempre tardivi e che, come avete visto, poi spesso coincidono con l'aumento delle rette da parte degli ospiti. Sta di fatto che però intanto gli antigestori sono preoccupatissimi e alcuni minacciano di chiudere. Eh beh, è un tema vero e non è, come dire, quello dell'opposizione. Sono fatti dal 2020, da settembre, che sapevamo che c'erano queste grandi difficoltà. Ogni volta le risorse che vengono stanziate sono tardive e anche in questo momento rischiamo che strutture importanti sul territorio rischiano di chiudere mettendo in enorme difficoltà gli ospiti e le loro famiglie. L'opposizione in Regione annuncia che tornerà a chiedere in aula l'erogazione dei contributi straordinari per gli antigestori rispetto alle annualità 2021 e 2022, ma anche l'adeguamento Istat del contributo regionale giornaliero dell'assegno di mantenimento, almeno alla cifra di 45 euro per ogni posto RSA convenzionato. La Regione bisogna che dia seguito, senza scaricare a questo punto su nessuno, nemmeno sui governi, perché come spesso viene brandito c'è omogeneità che vengano dirottate risorse importanti per mettere in sicurezza queste strutture.